un cordiale saluto a tutti amici benvenuti su emiliameteo.tv tutto come previsto l'avevamo detto l'avevamo annunciato che il sabato sarebbe stata la giornata peggiore della settimana infatti quella di oggi sarà una giornata all'insegna del tempo molto instabile con parecchie nubi piogge sparse qualche temporale addirittura in appennino fenomeni che si distribuiranno e continueranno ad essere distribuiti in modo piuttosto irregolare e che cominceranno ad attenuarsi su scala generale diciamo proprio tra il tardo pomeriggio e la sera a garanzia di una pasca una pasqueta tranquilla oggi le temperature ovviamente faranno registrare una generale diminuzione nei valori massimi dicevo nelle prossime 24-48 ore ci sono buone notizie perché questa perturbazione scenderà rapidamente verso Levante il tempo andrà già migliorando nel corso della notte tant'è che già dalla mattinata di Pasqua il tempo risulterà piuttosto tranquillo avremo forse ancora qualche residuo disturbo sulle zone appenniniche più orientali nel sud della Romagna ma tutto si risolverà abbastanza rapidamente e sarà una giornata di nuovo all'insegna del tempo abbastanza tranquillo verso sera ci sarà di nuovo l'aumento un aumento delle nubi sulla Romagna sulla fascia più meridionale ma cose di poco conto le temperature ovviamente torneranno ad aumentare buona sarà anche la giornata di Pasquetta con un tipo di clima molto molto gradevole ulteriori dettagli sul nostro sito web all'indirizzo Emilia meteo punto tv per ora è tutto amici a più tardi